Open Week dedicato alla salute della donna e di genere dal 20 al 26 aprile nel territorio della ASST della Vaca Monica con il coinvolgimento del polo ospedaliero di Esine Edolo e dei presciti territoriali in occasione della settima giornata nazionale della salute della donna che si celebra il 22 aprile. Abbiamo organizzato tantissime iniziative proprio per poter raggiungere più popolazione possibile. La maggior parte delle iniziative sono rivolte alla popolazione femminile ma ci sarà una giornata dedicata anche alla popolazione maschile. Gli operatori sanitari si sono rispondibili sia sul presidio di Esine che sul presidio di Edolo ma anche nei distretti. Quindi avremo la possibilità di offrire alla popolazione delle visite mediche gratuite. Parliamo di visite endocrinologiche per la valutazione della funzionalità della ghiandola tiroidea, visite senologiche per la prevenzione del tumore alla mammella per le donne sopra i 40 anni. Offriremo la possibilità di sottoporsi a PAP test sia sul distretto di Breno, di Darfo e anche quello di Edolo. Avremo poi tutta una giornata dedicata alla prevenzione radiologica del rischio di osteoporosi quindi la possibilità di fare la MOC che è l'esame che valuta la densitometria ossea sia sul presidio di Edolo che su quello di Esine. Possibilità di fare ecografia tiroidea e due mattinate dedicate alla sempre prevenzione delle patologie tiroidee con la possibilità di sottoporsi a un prelievo ematico gratuito. Abbiamo poi delle iniziative che si svolgono in presenza agli ingressi principali dell'ospedale di Esine dell'infopoint con distribuzione di materiale informativo e cancelling vaccinale in tema di prevenzione delle patologie oncologiche a carico dell'apparato genitale femminile quindi l'HPV e tutte le vaccinazioni che vengono proposte alla donna in gravidanza ma anche un infopoint con distribuzione di materiale informativo e uno sportello gratuito di ascolto e di consulenza in tema di violenza, non soltanto violenza femminile ma anche violenza di genere e violenza assistita. Le prenotazioni si accettano nei giorni di sabato 9, lunedì 11 e martedì 12 aprile dalle 8.30 alle 12.30 telefonando al numero dedicato 0364 360 408. Consulenze, esami e visite sono totalmente gratuiti fino ad esaurimento dei posti disponibili.